buongiorno a tutti sono simone aliprandi vi parlo di open data licensing in pillole ovviamente perché il tempo è quello che è una breve presentazione appunto io sono questo qua che vedete in foto mi potete seguire sui social twitter ad esempio e in questi giorni ho presentato anche un libro che è sotto licenza creative commons quindi si può scaricare online dal mio sito trovate l'indirizzo e che parla dei temi che vi vado a riassumere proprio in questa breve presentazione si titola il fenomeno open data indicazioni enorme per un mondo di dati aperti ve lo lascio come spunto d'approfondimento quindi visto che non riusciamo a dire tutto chi volesse poi approfondire lì si trovano veramente anche i riferimenti normativi e altri link per approfondire ulteriormente allora una breve promessa da punto di vista giuridico c'è questo tema che torna sempre per noi giuristi europei soprattutto che è quello del diritto sui generi sulle banche dati in europa infatti negli anni 90 è arrivato questo diritto discutibile che però abbiamo tuttora e dobbiamo tenersi quindi dobbiamo considerarlo anche nell'attività appunto di gestione dei diritti con licenze e licenze open il diritto sui generi sia uno strano diritto che tutela le banche dati anche quando non sono banche dati creative quindi si sradica dal concetto di carattere creativo di creatività che è alla base del diritto d'autore classico del copyright e tutela colui che costituisce una banca dati e che nel costituirla fa un pesante investimento un rilevante investimento il fatto che in questo diritto esista solo nell'unione europea non esiste negli stati uniti è un po l'origine di alcuni problemi in materia di licensing perché perché le principali licenze che noi conosciamo in materia di diciamo nell'ambito dei contenuti aperti ad esempio le creative commons vengono proprio da una matrice americana dalla matrice statunitense poi sono state adattate e portate qua nei contesti europei però purtroppo mancavano almeno nelle loro versioni fino alla fine degli anni 2000 mancavano del diciamo occuparsi dell'aspetto del diritto sui generi quindi sostanzialmente se una licenza di quel tipo veniva applicata ad un database sviluppato diffuso in europa non veniva licenziato il diritto sui generi infatti io scrivo diciamo in modo un po efficace licenze che non licenziano perché perché non occupandosi di quel diritto si lasciava una sorta di vuoto di buco e quindi di incertezza sui termini d'uso della banca dati e la soluzione piove quella potrebbe essere ovviamente è quella di scrivere una licenza ad hoc che si occupi anche di quell'aspetto così è stato perché sono nate alcune licenze sia soprattutto in ambito europeo appunto è come la prima la più importante la più nota la odbl l'open database license che è quella utilizzata oggi da open street map ma anche in italia la prima iodl qual è il problema di queste della creazione di nuove licenze quello che tutti conoscete chi si occupa di open source lo sa il license proliferation cioè la continua nascita di licenze che spesso si sovrappongono perché in realtà fanno più nelle stesse cose di altre quindi creano problemi di compatibilità ecco le soluzioni che poi con questa attività di license proliferation si sono si sono poste sono attualmente più o meno queste questo è uno schema ad albero che vi fa capire quali sono i tipi di licenze che possiamo avere la prima distinzione è quello tra vere e proprie licenze e public domain waivers le licenze si dividono in quelle con la clausula attribution e anche lo share alike e quelle che chiedono solo la clausula attribution cioè il riconoscimento della origine della paternità originaria dell'opera e poi ci sono i public domain waivers quello che praticamos chiama cc0 cioè una specie di dichiarazione con cui l'autore può rilasciare pubblico dominio direttamente un'opera questa effettivamente è una soluzione molto comoda perché se un'opera in pubblico dominio non ci dobbiamo preoccupare dei termini d'uso della stessa no in più attenzione perché negli anni 2011 2012 sono state fatte in italia alcune riforme che hanno interessato direttamente le pubbliche amministrazioni infatti le piai italiane hanno alcuni vincoli particolari di legge che ora purtroppo non vi posso riassumere per la scelta delle licenze quindi le pubbliche amministrazioni italiane devono scegliere le licenze da applicare ai loro database secondo alcuni criteri stabiliti per legge che vi lascio appunto scoprire leggendo il libro dove troverete tutto vi ringrazio alla prossima